A Cosenza i Carabinieri nella giornata di giovedì hanno eseguito un ordine di carcerazione ed arrestato un pluri pregiudicato. Antonello Adamo, di 43 anni, cosentino, già noto alle forze dell'ordine, che già si trovava agli arresti domiciliari, è stato tradotto in carcere in quanto deve espiare una pena a 3 anni e 4 mesi per rapina aggravata in corso. I falti risalgono al gennaio del 2015 quando vennero perpetrate una serie di rapine a mano armata in pieno giorno ad alcune rivendite di tabacche nel capoluogo Bruzio che fruttarono circa 5.000 euro. Mentre Francesco De Rose, quarantenne anche di cosentino, con obbligo di soggiorno nel comune di Cosenza, è stato tratto in arresto perché sorpreso dai carabinieri nel corso di un controllo a bordo di una moto Ducati nel comune di Dipignano.